Aveva umesso e dichiarato infedelmente i suoi redditi per gli anni 2016-2017, aveva distrutto e nascosto le scritture contabili e tentato di impedire, così facendo, la corretta ricostruzione di quanto percepito. Adriano Cardinale, 57enne di Sant'Anna di Cartoceto, pensava di farla franca, ma la Guardia di Finanza è riuscita a scoprire i guadagni occultati al fisco e a denunciarlo. Le Fiamme Gialle hanno quindi sequestrato beni per un valore di circa 500 mila euro all'uomo, titolare di una ditta e operante come agente rappresentante di prodotti non alimentari. La minuziosa attività svolta dalle Fiamme Gialle, anche attraverso le banche dati, ha portato a un procedimento penale, a una sanzione e condanna nei confronti dell'imprenditore. Il sequestro preventivo per equivalente è stato disposto su decreto del giudice per le indagini preliminari e messo su richiesta della Procura di Pesaro. Riguarda conti correnti bancari, due terreni, due automobili e tre motocicli. Ora sono in corso ulteriori accertamenti per individuare altri beni e disponibilità riconducibili all'evasore totale per raggiungere l'intero importo contestato. Proprio nel momento in cui la crisi sanitaria ha indebolito ulteriormente il sistema economico accentuando fenomeni di illegalità, si legge in una nota, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pesaro si pone come baluardo a difesa delle imprese e dei contribuenti onesti al fine di tutelarli da quell'illecito vantaggio competitivo ottenuto dalle aziende concorrenti che frodano il fisco. Questo modello di etica imprenditoriale, hanno concluso i finanzieri, va preservato, custodito e sostenuto.